Al via i lavori di rifacimento di piazza Matteotti e Dacate costerà circa 60.000 euro a base d'asta la nuova piazzetta ma permetterà a dire del sindaco Giovanni Caruso ai cittadini di usufruirne al meglio con sedili e giochi per bambini e ai bar di mettere tavoli ed ombrelloni all'aperto, una nuova concezione urbanistica per la cittadina alle porte della scadenza del mandato elettorale dell'attuale amministrazione, presto il potabilizzatore ma anche lavori progettuali per il nuovo cimitero. È un progetto che prevede l'abbattimento della vasca, quella cosiddetta ghigliottina che così è stata definita da tanto tempo e più le scalinate. C'è un progetto in parole povere che rende fruibile in un modo migliore, noi riteniamo la piazza Matteotti anche perché questo potrebbe dare la possibilità ai locali che ci sono in zona magari di mettere degli ombrelloni, dei tavolini quindi una fruizione, forse un po' un ritorno all'antica, quando c'erano le famose villette c'era la strada che passava nel mezzo e i barri a tigui, adiacenti, mettevano questi tavolini quindi era diventato un punto di riferimento. Lo è ancora oggi. Fra l'altro abbiamo visto che queste scalinate permettevano solo ed esclusivamente sedersi sui sedili, che faremo ugualmente più numerosi qua sotto. Questo fa parte di una serie di progettualità che certamente vanno man mano un po' a chiudersi. Col chiudersi dell'amministrazione, della vita di questa amministrazione evidentemente si cominciano a chiudere anche questi progetti.